Non ho mai rubato o ammazzato nessuno, non sono un delinquente. Sono le parole amare che si leggono in breve sul cartello affisso da Alessio Roberti davanti al suo locale, il bar Franco a Centinarola di Fano, sanzionato e da ieri chiuso per cinque giorni dalla polizia locale fanese. Uno sfogo ormai virale in rete e pieno di frustrazione e rabbia quello di Alessio che scrive sulla porta d'ingresso del locale mi hanno multato e fatto chiudere per cinque giorni solo perché a dieci metri dal mio bar c'erano dieci persone di cui quattro congiunti e due con il bicchiere in mano che alle 18 e 20 finivano la loro consumazione. Tanta amarezza e tristezza per uno che ama il suo lavoro come me e che con tanti sacrifici e notti insonni cerca di andare avanti. Le leggi noi siamo abituate a rispettarle, io le rispetto, io ero lì perché ho un codice a teco prevalente alla somministrazione ma posso anche poi vendere bottiglie intere, posso somministrare quindi, cioè non somministrare ma vendere bottiglie, posso vendere insomma lattine e posso fare a sporto quindi perché vendo anche pizza al taglio e quindi ero lì per quel motivo lì diciamo. Probabilmente loro hanno visto che io stavo ritirando dei bicchieri che avevano finito di bere quindi mi è sembrato proprio un accanimento siccome c'è stata molta prepotenza, molta maleducazione e questo è quello che mi ha fatto più male. Siamo lottando per ogni giorno con i denti per le nostre famiglie perché noi siamo babbo, abbiamo dei figli, abbiamo dei dipendenti e quindi io non fatturerò e non pagherò le tasse per quel periodo che loro mi faranno chiudere. Quindi è solo un accanimento personale, penso più più personale perché poi penso che chi venga a controllare è giusto che controlli perché contiamo molto nelle forze dell'ordine e vogliamo che loro vengono a fare i controlli nei nostri locali però c'è modo e modo di controllare nei posti. E poi spero che come da me sono venuti cinque volte perché chiamano, non devo essere io a chiamare per tutti gli altri locali ma sono loro che devono far rispettare le regole perché tanto la legge poi è uguale per tutti. E alla base di tutti i rapporti c'è sempre l'educazione. Quello che è accaduto ad Alessio non è un caso isolato spiega il responsabile di Ristori Italia Michele Pennacchini. Per questo motivo ieri mattina abbiamo incontrato la comandante della polizia locale fanese Anna Rita Montagna. Quello che abbiamo chiesto alla dottoressa è un'equità di trattamento tra i vari locali del fanese perché come diciamo la situazione di Alessio è un po' al limite. Vediamo giornalmente e sotto l'occhio di tutti delle situazioni nei locali di Fano dove è insostenibile oramai assembramenti di ogni genere, folle di persone, ragazzini e quant'altro che consumano fuori dei locali. e prendere di mira un nostro collega multandole, facendolo chiudere a loro dire per una cosa giusta ma poi è tutto da vedere. Noi la vediamo come una disparità di trattamento tra le varie attività. Il controllo va effettuato bene con i giusti criteri e con la giusta parsimonia. Diciamo così un occhio di riguardo non nel trasgredire la regola bensì il contrario nel farla rispettare la regola perché saremo tutti contenti di rispettare le regole al pieno e così lavorare tutti quanti. Perciò ben vengano i controlli ma vengono i controlli fatti bene e mirati al punto giusto.